Ehi, vuoi sapere una cosa veramente fica? Sei amato? Forse dalla persona che hai baciato o con cui hai guardato un film. Ma alcuni di noi non hanno tutto ciò nella propria vita. Se ce l'hai, ottimo. Ma se non è così, non significa che tu non sia amato. Credici o no, l'amore è ovunque. Si manifesta in forme differenti. E può trovarti in tanti luoghi differenti. Arriva quando meno te lo aspetti. Persino quando sei sul punto di arrenderti. Quando sei stanco e scontroso. E l'ultima cosa che vuoi fare è alzarti dal letto. L'amore ti troverà. Forse sarà tramite un amico che ti lascerà un messaggio divertente. O con il cane al parco che correndo ti incontro ti annuserà il sedere. O forse solo guardando la luna per un secondo. L'amore ti troverà. Lo fa sempre. Ogni tanto è importante ricordare che... Sei amato. L'amore ti troverà. L'amore ti troverà. L'amore ti troverà. L'amore ti troverà.